E ora passiamo a Magna de Carnaval, che non è romano, non è romanesco, Magna, in portoghese. Scritto dal compositore brasiliano Luis Bonfano, da Antonio Maria, interpretazione di Elisabeth Cardoso, tema principale della Bologna Sommar del Futebolfeo Negro, diretto da Marcel Camus e tratto da un tipo federale di Vinicius de Moraes. Presentiamo questa volta il batterista, batterica Sascha Nenbic. Ecco, è un giugno russo, un grande russo, anche la Russia, con il ritmo impeccabile, affidabile, discreto, la saputa che genera tante avversità, la vita, in un modo in cui la resilienza soprattutto dei giovani sembra vacillare. Anche il mio studente universale non ingegneria ma di fisica, e vabbè, quindi un altro grande cervellone, speriamo che l'Italia non perde questi talenti ingegneri e fisici, però anche un grande musicista. Bellissimo, grazie. E andiamo avanti, mani, e vi tornerò. Grazie. 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 I stop just a close from your door But you're never home anymore So back to my room There in blue I cry Tears of good night 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 I stop just a close from your door But you're never home anymore So back to my room And there in blue I cry Tears of good night 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 Tears of good night